Il primo obiettivo è quello di informare, perché a conti fatti tutti parlano di primarie, ma probabilmente non tutti sanno come funzionano. Insomma, i sostenitori di Pierluigi Bersani, segretario nazionale del PD e candidato alle primarie del centro-sinistra, a Margherita di Savoia hanno deciso di svolgere innanzitutto un'azione propedeutica, senza trascurare gli aspetti più strettamente politici di questa campagna elettorale. Noi, come addetti ai lavori, siamo troppo sicuri del nostro. C'è bisogno invece di contattare la gente, di informarla, perché purtroppo ci stiamo rendendo conto che la disinformazione è tanta, i messaggi che arrivano anche dai media arrivano in maniera distorta, bisogna dire alla gente innanzitutto che cosa sono le primarie. Sembra strano, ma in realtà molti non hanno ancora capito che con le primarie riescono a decidere almeno chi potenzialmente potrebbe diventare il prossimo premier italiano, insomma. E la massiccia partecipazione domenica prossima sarà uno dei risultati che il PD margheritano intende raggiungere. Lo ribadisce Antonella Cusmai, ex consigliere comunale, è presente alla manifestazione a sostegno di Bersani con i parlamentari Fioroni e Grassi e il consigliere regionale Ruggero Mennea. Io mi auguro intanto una discreta affluenza. Noi dobbiamo dire che Margherita di Savoia è stata sempre molto, molto presente durante le competizioni per le primarie. E ci aspettiamo qualche centinaia di presenze. Il perché alle primarie del centro-sinistra bisogna votare Bersani, la Cusmai lo ha ribadito anche durante l'incontro aperto dal segretario cittadino del partito, Angela Capacchione. Bersani è il segretario nazionale del Partito Democratico, perché Bersani ha fatto un grandissimo passo indietro nel momento in cui ha consentito a Matteo Renzi, alla Puppato, di careggiare per le primarie. Perché non si dimentichi che lo statuto del Partito Democratico consente al segretario nazionale di diventare naturalmente il candidato premier. Quindi Bersani, se avesse voluto applicare lo statuto, Renzi e la Puppato in questo momento non avrebbero gareggiato con il PD per la premiership.